Si torna a scuola domani in Abruzzo. La provincia di Pescara è al lavoro per garantire in tutti gli istituti le lezioni in presenza. Obiettivo questo che sarà raggiunto nel giro di massimo due mesi, ha dichiarato il presidente Antonio Zaffiri. A questo scopo la provincia ha ricevuto dal MIUR, il ministero della pubblica istruzione, 855 mila euro per l'edilizia cosiddetta leggera e 600 mila euro per l'affitto delle nuove aule. La provincia di Pescara è pronta, tutti i lavori cosiddetti piccoli, leggeri, sono stati tutti ultimati, riconsegnati ai dirigenti scolastici, agli istituti e quindi siamo pronti per partire. Ci sono delle problematiche in quanto alcuni edifici proprio strutturalmente come dimensioni non erano possibili né allargare né trovare altri spazi, però adesso si sta lavorando per raggiungere e un prossimo obiettivo è quello di riportare tutti in presenza nell'arco di due mesi. Il problema degli spazi nelle scuole pescaresi si trascina ormai da anni e la questione è ora aggravata dalle procedure anti-covid che bisogna adottare per evitare i contagi. Diciamo che noi non abbiamo un progresso eccellente, abbiamo già un progresso di criticità nelle scuole in quanto erano già poco capienti per il numero dei ragazzi. Adesso con la pandemia e con il covid ci ha messo in crisi, hanno messo in crisi tutti gli istituti, però con i piccoli lavori cosiddetti leggeri, come ho detto prima, nel rimuovere alcuni tramezzi, di modificare alcune cose e recuperare alcuni spazi all'interno delle scuole questo ha consentito un miglioramento per quelle criticità che avevamo.